Dopo il successo ai tempi supplementari di Coppa, la Fidelis si rituffa nel campionato con qualche certezza in più e con diversi giorni di allenamento nelle gambe, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Virtus. Una settimana intramezzata, come detto, dalla gara di Coppa, in cui l'ampio turnover ha permesso nuove valutazioni e diverse buone indicazioni. Ma ora è tempo di Vibonese per tornare a muovere la classifica dopo le due sconfitte consecutive. Sì, è una squadra di categoria esperta, ormai da tempo fa questo campionato, fatta di elementi importanti. Noi sappiamo che in questi giorni ci sono partita su partita su partita e forse anche meglio sotto questo punto di vista perché permette a tutti di giocare, permette a tutti di mettere minuti nelle gambe e di trovare la giusta condizione. Gigi Panarelli potrà contare su tutta la rosa a sua disposizione. In settimana risoluzione contrattuale con Ciro Favetta, che dopo il ritorno di Matteo Di Piazza in pianta stabile nella rosa della squadra non avrebbe più trovato molto spazio. Proprio l'attaccante, primo acquisto del mercato tra i pro della Fidelis, potrebbe invece trovare spazio in panchina dopo una decina di giorni di lavoro con il gruppo. Con la Vibonese torneranno dal primo minuto titolari Bubas e Tulli in avanti con Di Noi e Casoli nella zona mediana, diversi invece i dubbi in difesa e nelle restanti caselle di centrocampo. Per me sono tutti potenziali titolari, è chiaro che in un determinato tempo, in un determinato momento uno fa le scelte anche di chi magari in condizione migliore e quindi titolari non esistono. E' chiaro che sì, mercoledì hanno giocato tanti, anzi è cambiata proprio totalmente 11 giocatori diversi rispetto a quello che è stata la partita di domenica. Vedremo, sono a disposizione, abbiamo fatto un buon lavoro in questi giorni, abbiamo preparato la partita nei migliori dei modi, la continueremo a preparare tra stasera e domani con delle videoanalisi. Siamo pronti per affrontare questa gara che sappiamo è molto impegnativa. Con i calabresi dell'ex Gaetano D'Agostino, cinque precedenti al Degli Ulivi, due pari e due vittorie biancazzurre, ultimo match nel 2016 finì a reti inviolate, gara con inizio alle ore 17.30.